Ciao a tutti, sono Stefano Savini di Savini Vivai, sono qui con Alessandro Paganini di Starter Green e siamo qua nel campo sportivo di Cotignola, come potete vedere alle mie spalle, e collaboreremo quest'anno per il mantenimento del tappeto erboso. Allora ho chiamato Alessandro perché è esperto di questo tappeto erboso in quanto è il fornitore, che si chiama questo tappeto? Questo tappeto erboso si chiama Blue Top Overseeding e qui è il caso di intervenire con un fertilizzante specifico per rinverdire il tappeto erboso. Perché vediamo che non siamo a metà luglio, un momento di grande siccità, però il campo è in buona condizione, incomincia però a presentare un po' di pallore, giusto? Quindi inizia a schiarire, quindi adesso interverremo con una fornitura di concime che si chiama Starter Green Tarf Perfect specifico per mantenere i prati dei campi sportivi. Allora questo concime lo potete trovare da me, il nostro sito, il nostro vivai oppure dal Starter Green. Sul nostro shop online tutti i prodotti che tracchiamo. Siamo due competitor per la stessa causa. Comunque adesso abbiamo fatto questo video iniziale, fra 20 giorni vi faremo vedere i risultati di questa concimazione e poi interverremo anche con degli altri prodotti, quindi ci sarà da fare il fungicida? Sì, ci sarà da fare gli interventi specifici contro le malattie fungine, nel caso si verifichino le presenze di funghi, oppure anche interventi con prodotti specifici per l'erba infestante con diserbanti selettivi. Cosa vuol dire diserbanti selettivi? Diserbanti selettivi vuol dire che praticamente è selettivo che il prato non lo tocca e colpisce l'erba infestante. Quindi ci vediamo del quadrifoglio, la fogliolina tonda. Del trifoglio soprattutto, lì bisogna intervenire con dei diserbanti a foglia larga che colpiscono il trifoglio e salvaguardano il nostro prato. Stiamo facendo, sta facendo la concimazione con la concime Starter Green, da 4. Questo, come vedete, è il concime. Adesso partirà con la concimazione e vedremo i risultati fra 15-20 giorni. Vai! Ciao, sono Stefano, qui dal nostro rivaio. Sono Alessandro Paganini di Starter Green. Allora, oggi parliamo del concime, il top per il vostro prato, per i campi sportivi, per tutto quello che è l'area verde. Allora, l'abbiamo, come potete vedere dalle immagini, dato anche al campo sportivo di Cotignola, l'assi calcio Cotignola, che da 40 giorni ha fatto il suo effetto e dalle immagini potete vedere che è in effetto stupendo. Adesso però, Alessandro, tu mi devi dire cosa c'è qui dentro. Da cosa è composto questo concime? Allora, questo concime, potete vedere granulo uniforme, è composto da tre elementi principali per la nutrizione dei campi sportivi e dei tappeti erbosi. Azoto, Fosforo e Potassio. I titoli sono 14 unità di azoto, 7 di Fosforo e 17 di Potassio. Allora, per i profani che magari la signora Maria non sa cos'è l'azoto Fosforo e Potassio, la cosa principale è, brucia? No. Ecco, se uno usa 30 grammi a metro quadro, quindi diciamo con un sacco da 25 chili si possono concimare mille metri quadrati, il prodotto non brucia. Quindi con questo sacco qui, che è in vendita sia sul nostro sito di Starter Green, questo sacco qui da 25 chili si fanno mille metri quadrati, giusto? Perfetto. E ogni quanto è da dare? Questo concime, siccome ha una particolarità e ha lenta cessione, va dato ogni 3-4 mesi, quindi 3-4 volte all'anno. Quindi dando una concimazione tipo prima dell'estate in giugno, come abbiamo fatto noi, luglio, inizio di luglio che l'abbiamo fatto, luglio, novembre? Sì, fino a ottobre, novembre si può intervenire con un'altra concimazione con questo prodotto. E poi dopo, a primavera, verso marzo? Sì, verso marzo, quando con l'inizio della stagione per l'anerile si interviene con un altro trattamento. Quindi 3 concimazioni fondamentali, marzo, luglio e novembre? Perfetto, perfetto. E l'importante è distribuirlo bene, quindi senza fare dei mucchi, perché il mucchio, per quanto sia anche l'intercessione, può essere sempre un po' tossico per il prato o per le piante. Però steso come stendere del riso, diciamo, ovviamente se uno ha la macchina per stenderlo è meglio, ma si può stendere anche a mano senza nessun problema. Questo concime non brucia, è a lento rilascio, quindi per 60-70 giorni rilascerà le sostanze nutritive, che oltre all'azoto, fosforo e potasio c'è anche dei microelementi molto importanti per la crescita del prodotto. Certo, scusa Stefano, oltre all'azoto, fosforo e potasio qui c'è dell'anerile solforica, che è dello zolfo, c'è del magnesio, c'è del boro e dello zinco. Quindi altri quattro elementi molto importanti per i tappeti arbosi. Che sono i microelementi fondamentali per il verde, quelli che colorano il nostro prato. Certo, certo. Ecco, adesso per il momento è tutto. Adesso andiamo a vedere i risultati della concimazione del campo sportivo. Se volete acquistare queste concime sapete dove rivolgervi. Ecco, perdonami una battuta finale. Tarf Perfect, la perfezione del tappeto arboso. Un saluto da Stefano e da Alessandro. Ciao. 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 Ciao.